7, Alberto Garchieri, numero 31, Carlo Serafini, numero 26, Gaccello Montanari, numero 18, Evalorio Emanfredini, numero 24, Francesco Valle, numero 9, Ducca Montserri, numero 23, Federico Bruni, numero 30, Emanfredini, numero 6, Federico Lambertini, numero 25, Gabriele Montanari, numero 20, Riccardo Pecini. Allegatori, Luca Montanari, in campo per il Bologna United, numero 8, Luca Accetti, numero 3, Stefano Fabio Parnassi, numero 4, Kane De Nataris, numero 96, Eman Emanich, numero 22, Simone Eman. e COVID-Eman. Numero 11, Lape Gluchero, curva, numero 13, Gian Maria Halbuto, numero 40, Giacomo Santandero, numero 10, Giacomo Sarvini, numero 14, Matteo Tedesco, numero 34, Emanif taste non rai! Nascenti Numero 7 Karau Sebastiano Mario Numero 6 Capitano Lorenzo Petretti Allenatore Litel Passo Pianco Buongiorno a tutti San Nazaro Magno Paras steroids La già Parasunto Pobre K hallou A Good L kavron L� Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.